Buongiorno a tutti, sono Martina Cimiello, 21 anni, Casalmo di Napoli Buongiorno a tutti, sono Francesca Frettini, ho 18 anni e vengo da Napoli Buongiorno a tutti, sono Anna Gravano, vengo da Fravore, ho 14 anni E poi c'è la mia piccola preferita che ho fatto io, lei si chiama Guarni Paesano, ha 15 anni e viene da quarto Allora, siamo arrivati al momento finale, ragazze non vi muovete Rosario! Un ringraziamento a chi? Rosario! Non devi entrare Rosario, facciamo ringraziamenti finali, adesso, entra, finiamo qua Non vi muovete voi? Vi volete stare sul porto? Vi volete stare sul porto? Dobbiamo chiudere, dobbiamo ringraziare gli ultimi ringraziamenti Abbiamo ringraziato ovviamente la scrittura, il Teatro Gensomino, bellissimo, questa bellissima location dove si è esibito il nostro Rosario Dania, dove abbiamo avuto questo concerto finalmente Tutti i giorni c'era il 19 maggio della mia testa e nella testa di ultimo maggio, tutti i giorni mi portavo la scadetta doveva, meno 18, meno 17, metterò una parte davanti e lì la voce è giù ma la voce è sempre su, grazie a voi veramente Ci sono riuscito ad andare, bacio a mia notte, a mia notte che sono lì, ragazzi, a tutti ragazzi scusate se mi hanno salutato, ma saremo, bacio, ciao Quale volevo ringraziare a una persona, ultimo ringraziamento, poi dopo mi fate una sorpresa dietro, mezzo una cosa a prendo, ok? Allora, lui è una persona che, diciamo, mi ha visto proprio nascere, cresce attestivamente, mi ha visto di lui Il mio nome è l'altro, io mi chavo Rosario Dania, grazie a lui E per la voglia di trovare subito, lui ha affidato su di cantare da tre sedati, ma sta calmo E' regalato a te, come parà, come parà, come parà Io voglio dire, buonasera, scusate, ho lavorato, grazie per avermi anorato Perché io sono veramente pieno di stare qua con tutto il pubblico Poche parole, buoni vendedori Ci canta a Napoli, se capisci, io mando un applauso a Rosario Dania, con due lo staff Grazie a mio amore, bello scritto a tutti gli amici Pietro Le Quinte, a Torino, alla regia, a tutti E che dire, gli cantate e te ne ho mangi lo passato Speriamo a Rosario tutto a posto, speriamo a Rosario tutto a posto Per quanto ho visto la diretta, sei un grande Applausi, buonasera Grazie, grazie, grazie Daniele, dove è? Daniele, ecco anche per te la targa di questa serata Grazie Era un po' bene Signor, grazie a tutti Marano E con noi abbiamo chiuso un po' tutti i ringraziamenti, tutti Siamo al finale Adesso ci dobbiamo scatenare sull'ultima canzone Adesso facciamo così, facciamo così veramente Facciamo così davvero Ragazzi ci accomodiamo, ci rimaniamo con la sorpresa finale Un applauso anche alle modelle, alle ragazze 20, ma non è finita Perché siamo al momento finale Io voglio ringraziare a Rosario che mi ha chiamato stasera a presentare